Il corso è un corso di scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo e questo ci sembra importante appunto sottolineare questo aspetto di benessere dell'uomo. L'obiettivo è quello di creare dei professionisti che siano in grado di insegnare delle attività motorie e sportive rivolte al benessere della persona, valutata nelle sue diverse età, dai bambini ai ragazzi, sino agli anziani che ovviamente svolgeranno attività in maniera diversa ma potendosi anche integrare nel territorio che ha nella nostra Sardegna delle caratteristiche molto peculiari per cui ci saranno anche delle attività che riguarderanno spazi non convenzionali in ambiente come l'arrampicata sportiva, il canoing, l'orienteering e così via, oltre che in mare. Il tutto sarà comunque svolto in maniera molto pratica per cui la capacità di potersi poi inserire nel mondo del lavoro come animatore di eventi sportivi, come responsabile di palestra, come responsabile di preparazioni atletiche anche in società sportive, sarà sicuramente uno degli sbocchi professionali appunto di questo corso di studio.